L'amministrazione greco si salva ma è solo la fine del primo tempo, come abbiamo già detto all'inizio ci sarà un secondo tempo da giocare, un secondo tempo che si giocherà il 12 giugno alle 18.30 ancora qui in Aula Consiliare, per quella data il sindaco si augura di portare in Aula i correttivi o comunque un piano di rientro per quello che riguarda la situazione critica finanziaria da parte dell'ente c'è da scongiurare un dissesto, ricordiamo il dissesto è ancora aperto, come resta aperta, ancora del tutto aperta la mozione di sfiducia La linea garantista dunque in virtù della proroga concessa dalla Corte dei Conti alla fine ha prevalso nonostante le tensioni che hanno attraversato l'intera seduta Noi non possiamo condannare la città di Gela ad un dissesto avendo la possibilità di poter in altri 30 giorni provare a sollevare la cosa è chiaro che adesso la palla passa all'amministrazione, l'amministrazione più che mai deve farsi trovare cosa che ancora ad oggi purtroppo non ha fatto, preparata a presentare gli altri finanziari e poi naturalmente valuteremo anche quelli Questo tutto lascia una possibilità alla città di Gela che è quella di evitare il dissesto ed è il nostro dovere dare la possibilità di salvarci dal punto di vista finanziario perché il dissesto non è una cosa bella, ma è una cosa bella soprattutto per i cittadini gelesi e per lo sviluppo di questa città Il problema politico su Greco verrà affrontato a tempo debito non abbiamo cambiato idea su quella che è l'amministrazione Greco anzi, devo dire che noi come gruppo siamo andati anche oltre a Greco però oggi, ripeto a dire, era un atto di responsabilità solo ed esclusivamente per la città Non la pensa ovviamente così il consigliere di Fratelli d'Italia, Salvatore Scerra che più volte ha contestato la linea seguita durante la seduta culminata poi con la votazione per il rinvio che secondo il consigliere Meloniano avrebbe profili di illegittimità Oggi ero gorrito non per il fatto della mozione di sfiducia ma con la maggioranza perché non avevo nulla da dire, già sono stato chiarissimo nei primi quattro anni nel corso di questi quattro anni oggi devo dire che perde la democrazia perché credo che questo modus operandi che ha questa maggioranza avallata dal presidente del consiglio avallata soprattutto dal segretario generale ci lascia alquanto perplessi e dubbiosi perché credo che molte cose sono al limite della legittimità se non quasi illegittimi e anche durante la fase della votazione credo che sia stato superato il limite perché credo che questa mozione di sfiducia viene trattata con una legge nazionale che supera anche i regolamenti comunali, gli statuti anche lì c'è da dire sul fattore del rinvio